In comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Ebbene, quando succede qualcosa di straordinario, la nostra prima tentazione è quella di condividere questa straordinarietà con qualcun altro. Non a caso quando succedono delle emergenze, delle catastrofi naturali, i mezzi di comunicazione tendono immediatamente a fagocitare questi eventi, queste vicende. Pensiamo ad un terremoto, pensiamo ad un'alluvione, pensiamo ad una catastrofe ambientale. Sono cioè dei temi che si prestano molto ad essere raccontati. Perché? Perché le informazioni cambiano continuamente, perché sentiamo prossimo a quello che sta succedendo, ci sentiamo vicini alle eventuali vittime di queste emergenze. E quindi le emergenze sono sempre state raccontate. Hanno sempre, come dire, occupato le prime pagine dei giornali o le prime notizie dei telegiornali. Ma con i media digitali il rapporto tra comunicazione ed emergenza cambia ancora una volta. Pensiamo a dei terremoti o delle catastrofi naturali che avvengono in luoghi lontani, dove per esempio le comunicazioni mainstream, le comunicazioni tradizionali, sono annullate e completamente distrutte. Ebbene un social network ci può aiutare. Attraverso un tweet, attraverso una fotografia postata, noi possiamo comunicare in tempo reale. Quindi diventare noi, i comunicatori, i giornalisti, gli informatori di quello che sta succedendo. Mi vengono in mente alcuni esempi. Il terremoto ad Haiti di qualche anno fa, oppure la protesta degli studenti in Iran di qualche anno fa. Lì l'informazione tradizionale, i mezzi di comunicazione tradizionali erano bloccati. Ebbene attraverso dei tweet, attraverso dei post, tutto il mondo è riuscito a condividere quelle notizie. Quindi il rapporto tra comunicazione ed emergenza si rimodula anche alla luce dei media digitali e amplia i propri confini.